Monsignor Paglia, buonasera Palazzo Chigi, io la chiamo per conto del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio avrebbe piacere di parlare con lei quindi se vuole glielo passo, va bene grazie, resti in attesa Pronto? Matteo, buonasera mi dispiace disturbare, ma non diciamo frescacce e dico sinceramente volevo scomodare il Santo Padre per questa cosa no guarda sei bravissimo, e meno male io vorrei capire come sono andate davvero le cose dunque le cose secondo me sono andate che lui si è brigato per e sfruttare questa situazione e per questo fa imbestialire il numero uno Capisco, quindi se lo dico in Toscano si è imbucato? E' certo che si è imbucato, poi io non so che cose ci hanno detto lui e il Sindaco Natto era un bravo uomo, una brava persona, però nessuno l'ha invitato ufficialmente da parte nostra assolutamente, io con lui parlai da una volta ma così insomma, il Papa era furibondo posso immaginare? Io cerco di capire se vi fidate di Marino, se c'è fiducia in vista del Giubileo e questo è il problema secondo me, lui dunque io ti posso assicurare una cosa, lui quando stava lì ha insistito per vederlo e per rivederlo e questo ha fatto scocciare tremendamente il Papa, probabilmente Marino aveva qualcosa da farsi perdonare a Filaleccia, poi sta cercando in ogni modo un appoggio, ma è questo sai, con il nostro non funziona. E certo, io non so come fare però. Senti una cosa, io quando torno in base a voi un minuto, però indubbiamente è chiaro che questo mette un bel freno diciamo al rapporto, ecco, certo. Senti diciamola, se il Sanso Padre dice che devo intervenire, io lo faccio, è naturale. No, lui non dirà mai questo che deve intervenire, lui non lo dirà ovviamente perché è figura di… però certo ha fatto una figura da Biscaro, poi con la fascia unico lì davanti. Si è imbucato insomma. Vabbè, si è imbucato. Allora io quando torno magari ci risentiamo, vediamo di capire meglio. Sì, io intanto cerco… Sì, va bene. Senti, miei complimenti per tutto. Grazie tante, grazie tante Rincenzo. Davvero complimenti, andate avanti, vai, tieni duro e poi se ci vediamo un minuto ti dico anche che ho qualcosa di… Molto volentieri, molto volentieri. Va bene Matteo. Va benissimo, ti saluto e si ringrazio. Ciao. Ci sentiamo presto. A presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.